Presentati due progetti, Green Sport e Arcadia, rivolto ai giovani in età scolare e post, azioni rivolte alle comunità di 21 comuni dell'Altovastese, nel Chietino, laboratori e corsi di formazione a carattere ambientale e sull'accessibilità digitale, temi sempre più importanti specie per i territori a rischio, anche di isolamento geografico. L'iniziativa nata da una collaborazione tra l'Associazione Dinamiche Inclusive ed Ecolan, Lega Ambiente e la Regione Abruto. Allora, i progetti si compongono di numerose attività, stiamo per partire, ci saranno corsi di formazione, ci saranno laboratori a carattere ambientale che si svolgeranno un po' in tutto il territorio dell'Altovastese e nei 21 comuni che lo compongono. Il cuore sarà ovviamente l'ECAD, l'ente capofila, il paese di Monteodorisio, ma le iniziative si sposteranno fino alla parte alta di Castiglione, Schiavi d'Abruzzo, proprio rivolte tra l'altro in quei territori anche alle scuole locali, che sono quelle poi a rischio anche di isolamento geografico in epoca invernale. Sono due progetti per noi importanti perché ci aiutano a costruire dal basso del territorio un percorso di partecipazione su due tematiche importanti. Da un lato, diciamo, la valorizzazione ambientale e dall'altro il tema della digitalizzazione collegato poi a un fenomeno importante, soprattutto per la costa dei Trabocchi, che è appunto il turismo sostenibile e accessibile. È un ruolo esercitato dalla Lega Ambiente che va nella direzione di accompagnare quella seconda fase di coinvolgimento che è partita dalla costa dei Trabocchi, quindi dalla Via Verde, e adesso appunto a mettere a sistema l'intero territorio partendo dai giovani. L'elemento forte è che queste due progettazioni cadono nel mondo della scuola e dei giovani, coinvolti appunto nel costruire il nuovo futuro di quel territorio che parla di sostenibilità e di accessibilità.